C'è un cavallo sicuro che non può perdere, come Brontolo, un nanetto che vive dando agli scommettitori informazioni di scuderie. Ultimo, è possibile che ogni volta che mi dai un cavallo, quella arriva ultimo, ma a me non mi freghi più, non mi freghi più, hai capito? Eh vabbè, vabbè, peccato perché tanto oggi Caimano vince. Che hai detto Caimano? Eh, Caimano, tranquillo, mi hai dato un mila a me per informazione e vai a cortare. Ma è sicuro? Mica è gente normale, signor Presidente.